Un cordiale saluto e ben trovati a Da Tu per Tu, è ripresa dunque la trasmissione realizzata in collaborazione con il Consiglio Provinciale di Trento, con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e siamo con il Consigliere Provinciale di Agire per il Trentino Claudio Cia, ben arrivato nei nostri studi. Questa prima tornata con i Consigli dei Provinciali sarà l'occasione per presentarsi agli stessi consiglieri. Il Consigliere Claudio Cia è al suo secondo mandato, per cui i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici già lo conoscono, ma rispettiamo dunque la formula. Allora, Consigliere Cia, vediamo di ricostruire brevemente la sua storia politica. Io ho iniziato a far politica, direi quasi per scherzo, nel 2009. 2009 mi chiese Pino Morandini di entrare nella civica che lo sosteneva quando era candidato sindaco e quando ho iniziato a far politica non sapevo neanche dove era l'entrata del Consiglio Comunale. Dopodiché una volta arrivato in Consiglio Comunale mi sono appassionato, ho imparato, perché è molto importante anche imparare, e via via poi il territorio mi ha conosciuto anche per il mio impegno, soprattutto in ambito sociale. Nel 2013 mi sono candidato alle provinciale e mi sono ritrovato eletto. E oggi, dopo le elezioni del 21 ottobre 2018, sono stato rieletto con il Movimento Agire per la sedicesima legislatura. Di professione sono un infermiere, è una professione che amo molto, perché mi permette di stare a contatto con la gente e anche di poter in qualche modo essere al loro fianco nei momenti più difficili della loro vita. Dunque, un impegno in politica, seconda legislatura come si diceva, per cui insomma è già con le mani in pasta, se così si può dire, per quanto riguarda l'attività politica. e di fatto ha già iniziato a presentare mozioni, interrogazioni, question time. Sì, ho presentato, o comunque sto per presentare un disegno di legge che permette, almeno che disciplinerebbe, il pagamento della tassa dell'ordine degli infermieri che attualmente è a carico del singolo infermiere, mentre io chiedo che questo venga assunto dalla provincia, tanto più che gli infermieri, soprattutto in ambito pubblico, esercitano esclusivamente per l'ente pubblico. E quindi ritengo che questa tassa che consente a loro di poter esercitare sia a carico della provincia, come tra l'altro già avviene, per quanto riguarda l'RSA, la tassa di iscrizione all'ordine degli infermieri e gli infermieri praticamente è sostenuto dalla stessa RSA. Altro provvedimento che sono riuscito a conseguire è che, ad esempio, i giovani che attualmente frequentano l'ultimo anno di superiori all'estero e che rientrati con la maturità non potevano iscriversi all'università in Trentino perché l'Università di Trentina applicava in modo, diciamo, a mio avviso ridicolo una disposizione del Ministro Fedeli che prevedeva appunto che in questi casi le persone non potessero essere iscritte all'università, costringendole così a rivolgersi all'università di altre province per poi rientrare il secondo anno in Trentino. Quindi io ho fatto una question time e l'assessore Bisesti si è impegnato a far sì che nei prossimi anni questo non succeda più. La prossima settimana andrà in discussione in Consiglio Provinciale la variazione al bilancio della provincia. Ecco, qual è la riflessione a riguardo di agire per il Trentino? Ma la riflessione è che questo, diciamo, assestamento di bilancio ha l'obiettivo di andare in conto al territorio soprattutto a quel territorio fortemente colpito dagli eventi climatici che hanno determinato disastri ambientali ma anche familiari perché ci sono delle realtà, delle famiglie che si sono trovate danneggiate fortemente anche dal punto di vista economico e che quindi li ha messe anche in grande difficoltà per quanto riguarda appunto la possibilità di proseguire con le attività che sostenevano la famiglia. Direi che questa manovra ha, in un certo senso, evidenzia la sensibilità del governo dell'attuale provincia proprio nei confronti dei problemi reali della gente. Una domanda che effetto le fa essere passato dall'opposizione alla maggioranza. Brevemente, perché stiamo esaurendo il nostro tempo. Ma, guardi, io in minoranza ero abituato ho fatto minoranza tra comune e provincia per dieci anni. Attualmente mi trovo, mi agio anche in maggioranza e comunque adesso è un altro lavorare e sicuramente anche in questo caso devo imparare molto. Ultima domanda, Cia. Allora, parliamo del provvedimento della giunta provinciale che ha istituito la gratuità dei trasporti alle persone che hanno superato i 70 anni di età. Un provvedimento che è stato accolto favorevolmente da chi soprattutto ne ha diritto. E lei che cosa ne pensa di questo provvedimento? Io sono felice perché nel 2010 quando ero consigliere comunale avevo fatto una mozione che andava verso appunto questa soluzione ossia garantire agli anziani sopra i 70 anni di poter muoversi liberamente. In quella mozione si intendeva muoversi liberamente sulla città di Trento. Il provvedimento della provincia invece ha l'obiettivo di garantire che tutti gli anziani sopra i 70 anni si possano muovere su tutta la provincia. Ritengo un provvedimento importante soprattutto perché va incontro alle difficoltà di quanti vivono con di redditi molto contenuti e che comunque si farebbero dei problemi anche a investire un euro per poter muoversi in città o fuori città. Questo è un'ulteriore prova che questa giunta provinciale è molto attenta anche alle piccole cose. Grazie al consigliere provinciale di agire per il Trentino Claudio Cia grazie di essere stato con noi per A Tu per Tu è tutto vi do appuntamento ad un'altra puntata arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.